Musica Penso che l'esperienza in BNL sia assolutamente consigliabile a chiunque. Dal primo giorno io mi sono sentito parte di una squadra grazie ai miei colleghi che mi hanno subito dato anche delle responsabilità, pian piano ovviamente. Uno stage in BNL dà delle possibilità sia in Italia che all'estero. Ti dà la dimensione di un contesto internazionale. È un'esperienza che va a valorizzare le caratteristiche personali e va a costruire una base per il futuro. La presenza che ha BNL nel territorio italiano, l'attenzione al cliente, l'attenzione ai progetti e alla passione dei clienti mi ha lasciato di stucco. Il cliente viene prima di tutto, viene prima di me. Si deve sentire coccolato, si deve sentire a suo agio con me. Innanzitutto dal punto di vista relazionale. Devo cercare di capire le sue esigenze, cercare di venire l'incontro senza perdere la pazienza, chiaramente. È una persona solare, dinamica e è riuscita a mettersi in gioco mostrando al cliente un interesse per le problematiche. Durante lo stage mi sentivo veramente parte del team, non ero lo stagista, quello che aiuta. Io servivo a qualcosa e devo dire che le soddisfazioni sono arrivate. Nel senso che il mio lavoro era riconosciuto dell'aspetto più importante di questo stage. Il fatto proprio che io ho instaurato innanzitutto dei rapporti umani e di amicizia, prima ancora che di relazione lavorativa. Con la sua voglia di fare e la voglia di mettersi in gioco, di crescere, ci ha sicuramente aiutato nell'affrontare le sfide lavorative e giornaliere. Per alcuni è stato anche identificato come un leader. Entrare in BNL può dare non solo speranza in un momento di crisi come questo, ma dà tanta energia, ti dà la possibilità di aprire la tua mente a 360 gradi. Grazie per la visione!